se vi interessa il comandante mi ha informato che si prevede un tempo splendido quindi non contate su eventuali disturbi atmosferici se non mi volete dovete spegnere il televisore fatelo subito altrimenti rischiate di assistere alla proiezione di una storia molto emozionante io la conosco e quindi ritorno ai miei studi preferiti a